Drakkar. Ho letto che il Drakkar era la nave ammiraglia dei vichinghi. Aveva fiancate molto alte e la ruota di prua regava un emblema intagliato a forma di drago o di animali fantastici che si teneva avessero funzioni apotropaiche. Perché? Commento. Perché tutti i popoli, anche quelli che sono alle prime incarnazioni umane, intuiscono che la loro vita scaturisce dai piani superiori di esistenza di cui invocano la benevolenza. Grazie.